vieni spirito santo divino creatore vera fonte di luce e fonte di sapienza versa il tuo brillare sul mio intelletto disperdi l'oscurità che mi ricopre quella del peccato dell'ignoranza concedimi una mente penetrante per capire una memoria ritentiva metodo e facilità nell'apprendimento lucidità per comprendere e abbondante grazia nell'esprimermi guida l'inizio del mio lavoro dirigi il suo progresso e portalo a compimento con successo questo chiedo attraverso gesù cristo vero dio e vero uomo che vive e regna con te e con il padre nei secoli dei secoli amen nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo redentore mio clementissimo eccomi prostrato ai tuoi santissimi piedi per meditare la tua passione pentito delle mie colpe ti domando perdono con tutto il cuore con tutta l'anima ti amo sopra ogni cosa accompagnami o gesù mio abilissimo amabilissimo con la tua grazia illumina la mia mente infiamma gli affetti inteneriscili sicché meditando il penosissimo tuo viaggio al calvario possa piangere i miei peccati per la tua passione per il tuo sangue fammi degno dell'indulgenza concessa a chi compie questo santo esercizio in suffragio anche delle anime del purgatorio o dolce mio gesù fa che nella via della croce impari ad amarti per sempre stava la madre dolorosa e lacrime presso la croce da cui pendeva il figlio santa madre de voi fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore stazione 1 gesù è condannato a morte ti adoriamo cristo ti benediciamo perché quella tua santa croce è redento il mondo dal vangelo secondo matteo 27 23 26 pilato aggiunse ma che male ha fatto essi urlarono allora più forte sia crocifisso pilato visto che non teneva nulla anzi che il tumulto cresceva rilasciò loro barabba e dopo aver fatto flagellare gesù lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso si crocifiga chi è chi e per chi gesù innocentissimo per me peccatori a sentenza crudele sentenza di morte spietata amabilissimo mio gesù tu vuoi morire per me e io con i miei peccati sono quel testimonio che ti accusa quel giudice che ti condanna in grato che sono tu mi hai dato la vita e io ti trascino alla morte mi pento del mio peccato lo odio lo detesto e poiché in pena di esso non mi è dato di morire con te sulla croce dammi almeno il coraggio che piangendo e sospirando ti accompagna il calvario diciamo insieme padre nostro ame maria e gloria al padre padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indura in tentazione ma liberaci dal mare ame ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo regno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio allo spirito santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli ame e la sua anima gemente contristata e dolente fu trafitta da una spada santa madre devo e fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore stazione seconda gesù riceve la croce sulle spalle ti adoriamo cristo ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo dal vangelo secondo giovanni 19 16 17 allora pilato consegnò gesù ai giudei perché fosse crocifisso essi allora presero gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo del cranio detto in ebraico golgota mio appassionato gesù già ti incammini al calvario non ti bastano spine al capo cadena ai fianchi fragelli piaghe sangue sul tuo corpo divino tu vuoi anche la croce tu l'abbracci con tanta mansuetudine e io con tanta diligenza la fugo tu sottometti con tanta tu sottometti a sì gran peso umilmente le tue spalle innocenti e io dal gioco benché suave della penitenza superbamente sottraggo le mie quanto sono cieco tu mi insegni a patire perché impari a salvarmi e io trascuro di salvarmi perché non intendo il patire mio caro gesù spogliami dell'amor proprio e se la croce è la sola via del paradiso eccomi pronto ad abbracciarla soccorrimi con la tua misericordia padre nostro che sei nei cieli se santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori e non ci indure in tentazione ma liberaci dal male ame ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio lo spirito santo come era il principio e sempre nei secoli dei secoli ame o come triste e afflitta fu allora la benedetta madre dell'unigenito santa madre de voi fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore stazione terza gesù cade la prima volta sotto la croce ti adoriamo cristo ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo dal profeta isaia 53 3 4 disprezzato e reietto dagli uomini uomo dei dolori che ben conosci il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevano alcuna stima eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori ahimè che vedo il mio amabilissimo gesù caduto sotto la croce disteso per terra angeli del paradiso sostenete il vostro creatore e redentor mio ma invece degli angeli gli arrabbiati manigoldi vi accorrono e compugni con schiaffi con calci orribilmente lo precuotono e tu mio caro gesù a tanti oltraggi soffri e taci io mi confondo in me stesso vedendo che ad ogni leggerissimo male mi scuoto ad ogni mia offesa mi risento smanio mi inquieto mi ne lamento pazientissimo mio gesù abbassa la mia superbia concedimi la pazienza sicché imitando te ti accompagni per mio profitto alla morte padre nostro che sei nei cieli si è santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetta a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame era angosciata e affranta la pia madre mentre vedeva le pene del figlio divino santa madre devo i fate e le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore stazione quinta gesù incontra la sua santissima madre ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché colato a santa croce redento il mondo dal vangelo secondo luca 2 34 35 simeone parlò a maria madre di gesù egli è qui per la rovina la resurrezione di molti in israele segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te una spada traficcerà l'anima non bastava a mia gran confusione il vedere gesù coperto di dolore in abito di peccatore che vi si aggiunge anche la madre all'improvero del mio peccato maledetto peccato penosissimo incontro afflittissima madre nel tuo spasimo leggo la mia perfidia so che ha un incontro così doloroso la passione del figlio è la passione della madre so che se le mie colpe affredo trafiggono gesù nel corpo a te o gran vergine trafiggono il cuore ma so ancora che gesù è la fonte delle misericordie tu il rifugio dei peccatori a te dunque pietosissima madre con le lacrime agli occhi col pentimento nel cuore umilmente ricorro affinché benigna mi impetri dal tormento gesù dal tormentato gesù tuo figlio il perdono dei miei peccati padre nostro che sei nei cieli se santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così intera dacci oggi nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori e non ci indura in tentazione ma libraci dal male ame ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame e chi non piangerebbe vedendo la madre del cristo in così grande tormento santa madre devo e fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore stazione sesta gesù aiutato dal cireneo ti adoriamo cristo ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo dal vangelo secondo marco 15 21 mentre conducevano gesù al calvario costrinsero frontale che passava un certo simone di cirene che veniva dalla campagna padre di alessandro e rufo a portare la croce dunque a sollevare l'affaticato mio gesù ci vuole la forza per costringere un uomo che porti la croce per lui purtroppo intendo sono io quel cireneo il quale non per volontà ma forzato sostengo talvolta qualche croce che tu mio gesù mi offri sconsciamente che sono sconsciente che sono per i miei capricci per il mio piacere non temo stenti non pavento pericoli non stimo sudori per te mio caro gesù tutto mi aggrava tutto fugo tutto mi annoia quanto son tiepido quanto son languido gesù mio dammi un po di fervore anima il mio coraggio a patire con te perché possa con te eternamente godere padre nostro che sei in i cieli sei santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetta a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori e non ci indura in tentazione ma liberaci dal male ame avevo maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio lo spirito santo come era nel principio e sempre nei secoli ame settima stazione tanta madre de voi fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore chi non si rattristerebbe contemplando la madre di cristo mentre soffre col figlio ti aduriamo cristo e ti benediciamo perché colato a santa croce redento il mondo dal profeta esaia 56 ho presentato il dorso ai flagellatori la guancia a coloro che mi strappavano la barba non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi a me quel sudario piissima donna a me consegnalo fortunata veronica voglio imprimere sul mio cuore il santo volto del tormentato mio salvatore ma ho me infelice che essendo pieno di amor proprio e di ambizione ho un cuore di sasso incapace e di si santa impressione pietosissimo mio redentore crea in me un cuore nuovo un cuore puro contrito e umiliato e su di questo stampa poi il santissimo tuo nome prometto di amare te solo mio gesù e di staccarmi da me stesso gesù sulle labbra gesù nel cuore gesù mia delizia chiamerò in vita gesù mio conforto chiamerò in morte e nel nome di gesù bramo ardentemente di spiare l'anima padre nostro che sei nei cieli si è santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così intera darci oggi nostro pane quotidiano rimette a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberci dal male ame ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio allo spirito santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli ame per i peccati del suo popolo vive gesù fra i tormenti sanguinante sotto i flagelli santa madre devo e fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore settima stazione gesù cade la seconda volta sotto la croce ti adoriamo cristo ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo dal profeta esaia 53 57 egli è stato trafitto per i nostri delitti schiacciato per le nostre iniquità il signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca ecco il re dei cieli il creatore dell'universo un'altra volta disteso in terra sotto la pesantissima croce mansuetissimo mio gesù tu bagni con i sudori della tua fronte al capochino la terra e io con la mia superbia contrasto col cielo e sopra me stesso innalzo non so ricordarmi di non essere altro che vilissima polvere quanto so misero umiltà mio gesù umiltà abbassa la mia altericia illumina il mio niente tu mi creasti di creta e in creta devo ritornare ho già la morte alle spalle e ho contro di me sempre il mio peccato misericordia mio dio per le tue pene fa che io pianga le mie colpe dalla tua caduta fa che io impari a rialzarmi padre nostro che sei in i cieli se santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetta a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in dentazione ma liberaci dal male e amo Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo crembo Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame vide il suo dolce figlio morire desolato finché mise l'ultimo respiro Santa madre De voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore ottava stazione Gesù consola le donne di Gerusalemme ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo dal Vangelo secondo Luca 23 27 31 lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui ma Gesù voltandosi verso le donne disse figlie di Gerusalemme non piangete su di me ma piangete su voi stesse e sui vostri figli perché se trattano così il legno verde che avverrà del legno secco ti intendo amabilissimo Salvatore ti intendo non sopra di te ma sopra di me devo piangere amaramente le mie lacrime accrescono il tuo dolore se non sono lacrime di compunizione piangi dunque mio cuore piangi con il tuo Dio che va alla morte ma il tuo peccato che ve lo conduce sei ben crudele contro te stesso se non sai col pianto cancellare il tuo fallo sangue preziosissimo del mio dolce Gesù intenerisci il cuore che non piange illumina l'intelletto che non conosce piega la volontà che resiste sì mio Gesù piango di cuore il mio peccato lo piangerò finché avrò fiato e prima di rinnovarlo perderò piuttosto la vita dona forza al mio pianto con la tua santissima grazia Padre nostro che sei in i cieli se è santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetta a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame Ado Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Padre nostro o Madre fonte di amore fammi sentire il tuo dolore perché io pianga con te Santa Madre devo e fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Stazione Nona Gesù cade la terza volta sotto la croce Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce è redento il mondo dal profeta Isaia 53,6-12 Noi tutti eravamo sperduti come un greggio ognuno di noi seguiva la sua strada il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi Egli è stato annoverato fra gli empi mentre portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori Gesù mio mia vita mia speranza ti rivedo per la terza volta caduto sotto la croce non è il legno della croce ma è la mia ingratitudine che le dà il peso sterminato sicché tu non la puoi sostenere le replicate mie cadute nell'abominevole peccato cagionano le tue quante volte ritorno dal peccato alla confessione dalla confessione al peccato lo conosco sì questo è l'enorme peso della durissima tua croce ma ora risolvo di emendarmi che sarebbe di me meschino se tornando a cadere tu non mi porcessi più aiuto a limitare te rialzandomi misericordioso Gesù sostienimi con la tua passione coprimi con le tue piaghe sicché non cada mai più in peccato mai più Padre nostro che sei nei cieli sei santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane coltiviano rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in tentazione ma ribarci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli Amen Fa che arda il mio cuore nell'amare Cristo mio Dio così che io possa piacergli Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Decima stazione Gesù spogliato delle sue vesti e abbeverato di fiele Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce è redento il mondo dal Vangelo secondo Giovanni 19,23,24 i soldati quando ebbero crocifisso Gesù presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica ora quella tunica era senza cuciture tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo perciò dissero tra di loro non stracciamola ma tiramola a sorte a chi tocca qual contrapposto è mai questo tu mio Gesù amore mio spogliato delle vesti piegato io mollemente vestito io insofferente di ogni dolore anche lieve io cinto di delicatezze e di vanità a te dolce mio salvatore fiele che ti amareggia a me piaceri e dolcezze che mi dilettano tu delizia del paradiso saziato di pene io verme velissimo di questo mondo digiuno di penitenza no mio Gesù non sia più così troppo disdice che tu innocente soffra e io colpevole goda qualche parte anche a me dei tuoi dolori prevenuti dalla tua grazia prevenuti dalla tua grazia e se arradolcire quel fiele basta un po' di contrizione che fai l'anima mia che non piangi si Gesù mio addoloratissimo mi pento delle mie colpe chiedo misericordia ti amo sopra ogni cosa Padre nostro che sei in i cieli e se santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così intera dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetta a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al Padre e al Figlio lo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame Santa Madre Santa Madre fammi la grazia di imprimere profonde nel cuore le piaghe di Gesù crocifisso De voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore undicesima stazione Gesù inchiodato sulla croce ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo dal Vangelo secondo Giovanni 19 18 19 giunti al Calvario crocifissero Gesù e con lui altri due uno da una parte e uno dall'altra e Gesù nel mezzo Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce vi era scritto Gesù il Nazareno il re dei giudei sei finalmente giunto mio caro Gesù al Calvario vi sei giunto trascinato come vile malfattore percosso con calci tirato da funi accompagnato per più ignominia da due ladroni che orrendo spettacolo martellate chiodi nelle mani colpi e chiodi ai piedi spine acutissime al capo trafitto un Dio su durissima croce quanta confusione quanto sangue chi può contemplarti o mio Gesù e non sentirsi spezzare il cuore per compassione permettimi agonizzante mio Redentore che a te mi accosti poiché i miei peccati ti hanno tratto alla morte voglio basciare quella croce ricoverarmi in quelle piaghe abbeverarmi di quel preziosissimo sangue sangue e piaghe del mio Gesù che mi avete redento salvatemi ve ne prego salvatemi Padre nostro che sei nei cieli sei santificato il tuo nome venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra darci oggi il nostro pane quotidiano rimetta a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori non ci indura in dentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre in secoli e secoli Amen dal tuo figlio ferito che tanto patì per me dividi con me le pene Santa Madre devo e fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 12esima stazione Gesù muore sulla croce ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce è redente il mondo dal Vangelo secondo Giovanni 19 30 37 dopo aver ricevuto l'aceto Gesù disse tutto è compiuto e chinato il capo spirò poi uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto ecco già immolata la vittima già compiuto il gran sacrificio già eseguita la volontà dell'Eterno Padre ecco il Figlio di Dio sull'altura del Golgotha confitto in croce fatto spettacolo compassionevole al cielo alla terra agli elementi è morto il mio Gesù è morto quei lividi occhi santissimi quelle labbra aspiranti quelle spine quei chiodi quelle piaghe quell'aperto costato quel sangue sono tutte fonti di misericordia ma intorno a quella croce io vedo con la spada in mano ancora la giustizia me infelice se ostinandomi nel mio peccato facessi vana all'opera della mia redenzione no mio Gesù non mi lasciare patire dal Calvario senza imprimermi nel cuore l'amarissima tua passione fa che temendo la tua giustizia viva e muoia nelle tue piaghe nella tua misericordia Padre nostro che sei in cielo sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori non ci indure in tentazione ma liberaci del male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo crembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prego per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen voglio piangere pienamente con te e condividere i dolori del crocifisso finché avrò vita Santa Madre devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore tredicesima stazione Gesù deposto dalla croce ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce redento il mondo dalle lamentazioni 2.13 con che cosa ti metterò a confronto a che cosa ti paragonerò figlia di Gerusalemme che cosa guaglierò a te per consolarti vergine figlia di Sione poiché è grande come il mare la tua rovina chi potrà guarirti Madre Santissima del mio Gesù crocifisso tu l'accogli nel tuo grembo e se non muori di dolore se l'amore non ti uccide è perché Gesù non lo vuole due passioni acerbissime alla mia redenzione patì il figlio di strazzi del corpo patì la madre il martirio del cuore e l'uno e l'altra per me uomo ingratissi ingratitissimo infinita misericordia del mio Gesù pietosissima vergine addolorata vi adoro vi ringrazio quando è stato crudele il mio peccato carnefice del figlio tiranno del cuore della madre madre santissima un bacio per me su quelle piaghe su quella croce insanguinata io non ardisco di accostarmi perché il peccato mi rinfaccia la mia ingratitudine dolente vergine intercedimi un vero pentimento e sia merito della tua protezione la penitenza mia la mia eterna salvezza padre nostro che sei in i cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così intera dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indura in tentazione ma liberaci dal male ame avevo maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio allo spirito santo come era nel principio e sempre nei secoli di secoli ame io desidero stare con te al piedi della croce e unirmi a te nel pianto santa santa madre di voi fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuore tredicesima e quattordicesima stazione gesù posto sul santo sepolcro ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo dal vangelo secondo giovanni e matteo 19 38 27 60 giuseppe d'arimatea chiese a pilato di prendere il corpo di gesù vi andò anche nicodemo e portò una mistura di mirra e di aloe essi presero allora il corpo di gesù e lo volsero in bende insieme con oli aromatici come usanza seppellire i morti per i giudei e lo deposero in una tomba nuova fatta scavare nella roccia chi mi dà una fonte di lacrime onde pianga il morto mio gesù e l'accompagna al sepolcro povero gesù accosto di tutto il tuo sangue è redento dalla schiavitù dell'inferno un mondo intero e all'infuori di poca gente non vi è chi bagni col pianto in segno di compassione la tua tomba quante ingratitudine voglio io amato mio gesù piangere per tutti la tua morte e detestare il peccato che ti tradì chiudo nel tuo sepolcro il mio povero cuore sì mio gesù compi le tue misericordie fa che esso purificato e santificato risorga con te e poiché hai incontrato volentieri la morte per mia salvezza concedimi che io accetti umilmente la mia morte per amor tuo affinché mediante questo sacrificio di umiliazione e di amore possa glorificarti in cielo per tutta l'eternità padre nostro che sei in cielo e sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetta a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ame Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame gloria al Padre al Figlio lo Spirito Santo come erano in principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame quando il corpo morirà fa che all'anima sia concessa la gloria del paradiso ame Santa Madre devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce redento il mondo prega per noi Vergine addolorata e saremo fatti degni delle promesse di Cristo o Dio onnipotente ed eterno che hai dato come modello agli uomini Gesù Cristo nostro Salvatore fatto uomo e umiliato sino alla morte di Croce concedi a noi di aver sempre presente questa prova suprema di obbedienza e di amore per partecipare alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore ame e la benedizione di Dio Padre scenda su di noi e su noi rimanga sempre nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Gesù si nella mia mente Gesù si nelle mie labbra Gesù si nel mio cuore Amen ciao Gesù si nelle persone Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.